Bentornati sul canale di MrGadget.tech, oggi per conoscere da vicino Huawei MatePad 11 2023. Prima di conoscere da vicino Huawei MatePad 11 2023 abbiamo una richiesta per te. Iscriviti al nostro canale, attiva la campanella e già che ci sei lascia un mi piace. Andiamo dunque a vedere da vicino Huawei MatePad 11 2023. Partiamo dal suo design, 7,2 mm di spessore 480 grammi, un display con una diagonale da 11 pollici IPS LCD da 120 Hz di refresh rate con una buona definizione 2560 x 1600 pixel. Le cornici si vedono ma il rapporto tra la superficie totale e lo schermo è dell'83%, quindi più che buono. Dal nostro punto di vista nel complesso è un prodotto molto discreto con un design lineare, semplice ma estremamente gradevole. Dovendo dare un occhio alla scheda tecnica, segnaliamo il processore Snapdragon 865, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, Wi-Fi 6, USB con OTG, quindi con la possibilità di attaccare anche una chiavetta esterna per il trasferimento dei file, quattro altoparlanti con un'ottima resa audio, insomma tutto quello che serve per avere un tablet che funzioni a tutto tondo. A completare la dotazione standard, la fotocamera principale da 13 megapixel sulla parte posteriore è capace di girare video in 4K, invece quella frontale da 8 megapixel che è messa sul lato lungo in modo tale da poter sfruttare la visualizzazione in orizzontale quando si fanno le videochiamate. Buona qualità per entrambi, fare foto non sarà sicuramente la funzionalità principale del vostro tablet, ma se vi dovesse servire all'occorrenza il risultato è discreto. Notevole la capacità di questo tablet per la sua batteria, 7250 mAh, si ricarica con un caricatore incluso in confezione da 22,5 W e può funzionare come un power bank, potete cioè collegare un dispositivo esterno e ricaricarlo con la batteria del vostro tablet, in questo caso l'uscita è da 5 W, autonomia davvero notevole. Ma come funziona Huawei MatePad 11 2023? Sappiamo che Huawei non usa i servizi di Google, ma gli HMS, Huawei Mobile Services, abbiamo detto più volte come nel corso degli anni Huawei abbia colmato il gap con la sua App Gallery che contiene tutte le funzionalità principali. Petal Search funziona molto bene, Petal Maps è basata sui servizi di TomTom e quindi è a livello di tutte le altre soluzioni presenti sul mercato. Abbiamo sempre riscontrato sugli smartphone di Huawei che la vera differenza stava nella mancanza di Android Auto, ma nel caso di un tablet non vi serve e quindi questa distanza non si percepisce. Anzi, bisogna dire che questo è un tablet con funzionalità complete e con tutti i software più importanti, compresa anche una suite che si chiama WPS Office, che vi permette di utilizzare tutti i servizi come scrittura, testi, fogli di calcolo e realizzazione di presentazioni direttamente dal vostro tablet. E qui entra in gioco un dettaglio importante nella confezione di vendita, trovate in bundle la cover che nasconde la tastiera. È una tastiera che si collega poi magneticamente e non solo perché è possibile utilizzare anche la Huawei Pen, anche in questo caso alloggiamento magnetico direttamente nella cover attraverso cui la pen si ricarica. Penna che si può utilizzare per scrivere direttamente sullo schermo, si scrive in corsivo e si traduce in testo digitale oppure si disegna direttamente sullo schermo utilizzando una delle tante applicazioni di grafica. La tastiera può sostituire quella di un computer, ovviamente occasionalmente quando siete in viaggio, quando magari siete in un weekend fuori e avete bisogno di fare qualcosa per il lavoro, avete una buona corsa dei tasti, una buona spaziatura e quindi si può scrivere abbastanza agevolmente, sfruttando in particolare la suite WPS Office che vi dà la possibilità di svolgere qualunque attività di lavoro senza alcun tipo di problema. Insomma un aspetto minimal ma gradevole, dotazione tecnica di buon livello ma soprattutto un rapporto qualità prezzo eccellente. Questa è la ragione per cui Huawei MatePad 11 2023 ci è piaciuto particolarmente ed ha rappresentato un'esperienza d'uso davvero molto gradevole. Se poi potete godere dell'ecosistema magari con un computer, uno smartphone, perché no anche gli auricolari, allora avete davvero fatto bingo perché sapete ad esempio gli auricolari passano da un dispositivo all'altro senza la necessità nemmeno di abbinarli. Con il cosiddetto super device di Huawei avete un intero ecosistema a vostra disposizione. Per oggi è tutto, grazie per averci seguito fino a qui, ci troviamo prestissimo su mrgadget.tech. Ciao! Grazie a tutti! Grazie!